Continuano gli eventi all'interno del Letterando in Fest 2022, il mondo in una stanza. Oggi e domani le ultime due giornate, con appuntamenti particolarmente attesi, sarà l'Arena Giardino stasera ad ospitare la procuratrice aggiunta di Palermo, Marzia Sabella, che presenterà al pubblico il suo libro dal titolo Lo Sputo, edito da Sellerio. Converserà con lei il giornalista Salvatore Cusimano. Il libro racconta il coraggio di Serafina Battaglia, nota come vedova della Lupara, donna siciliana vestita di nero col capo avvolto da uno scialle che nel 1963 il giudice Cesare Terranova denunciò agli assassini mafiosi del marito e del figlio. All'evento in Cortillo Orchidea, i giornalisti Filippo Landi e Laria Maria Sala converseranno sul tema Hong Kong, eclissio, definitivo tramonto di un mito, un argomento che ripropone lo stesso leitmotiv dell'edizione di quest'anno del Letterando in Fest per come la direttrice artistica Paola Caridi ha voluto immaginare con il tema Il mondo in una stanza. Ilaria Maria Sala è una giornalista italiana che vive e lavora da Hong Kong, luogo che uno dei tanti crocevie della contesa del potere, dove la sfida della popolazione al gigante cinese è argomento di dibattito tuttora aperto. Nello spazio di Tori Letizia Bilella presenterà il suo libro dal titolo All'ombra di Giunone, edito da Bertoni. All'eventuno Paola Caridi converserà con la scrittrice e poetessa palestinese Natalia Andal, che ha voluto approfondire la visione culturale e letteraria del grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia. Dialogheranno proprio di viaggio in Sicilia e sulle tracce di Sciascia una bella opportunità per capire il punto di vista di un intellettuale di livello internazionale sulle capacità dello scrittore racalmutese e dal Consiglio d'Egitto a todo modo di raccontare usi e mentalità della nostra Sicilia da una visione mediterranea. Questa edizione del Letterando in Fest 2022 rende omaggio alla memoria di Ada Arcuri, editrice del Corriere di Sciacca, partono i termini del bando di un premio intitolato alla sua memoria in favore di una giovane promessa della letteratura, la cui opera verrà selezionata da un'apposita giuria. L'iniziativa è del giornalista Filippo Cardinale, marito di Ada e del fondatore del Letterando in Fest Sino Caracappa. Il programma di domani, ultimo giorno del Letterando 2022, si comincia alle 19 in Cortile Orchidea con la presentazione di La scomparsa dei dinosauri, edito da Grafo Phil, l'autore Michele Pipia, con il quale converserà Mariolina Bono. Sempre alle 19 in Sala dei Palchi, Mattia Corrente parlerà con Irene Chies del suo libro dal titolo La fuga di Anna, pubblicato da Sellerio, romanzo di esordio per l'autore che narra la storia di una donna che esce di casa e scompare con il marito che comincia a peregrinare per ritrovarla. Ne viene fuori un'immersione nella memoria, nelle scelte e nelle azioni, da cui emergeranno verità eluse, devastante ed impietose. Il tema della conversazione sarà proprio Sto cercando mia moglie. Alle 20, ancora in Cortile Orchidea, Cetta Brancato e Paola Maggio converseranno con Evelina Sant'Angelo sul libro di quest'ultima dal titolo Non solo per amore, pubblicato da Treccani. Sullo sfondo la storia di Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, anche lei vittima del tritolo di Capaci, il 23 maggio del 1992. Sarà Roberto Laimo, amico del Letterando in festa, a concludere la manifestazione, lo farà presentando la strategia dell'Opossum, pubblicato da Sellerio. Il tema sarà il ritorno di Giovà, suo malgrado. Giovà è il protagonista di questo romanzo di Laimo, un uomo normale, senza grandi pretese, che riesce però a riscattare la considerazione che da sempre gli altri hanno di lui, ancorché in un ambito tragico. Una serata, quella di ieri, che ha offerto diversi interessanti spunti di discussione. Irene Chies e Dino Petrelia hanno parlato di Sono ateo e Tiamo, pubblicato da Laurana, libro di esordio della scrittrice Saccenza, recentemente rieditato, che ha visto l'ex procuratore capo e tuttora cittadino onorario di Sciacca, fornire diversi punti di riflessione sulla vita familiare siciliana, tutti molto interessanti e acuti. Filippo Landi e Giuliano Battistone, entrambi i giornalisti, hanno parlato di Afghanistan venti anni dopo, dalla Repubblica all'Emirato, sullo sfondo la questione afghana dopo il ritiro degli Stati Uniti da quei luoghi. Molti si domandano ma perché gli americani hanno deciso di andarsi? Le spiegazioni possono anche essere schematiche, possono anche essere semplicistiche. Qual è la tua chiave di lettura intanto? Loro cosa hanno deciso? A un certo punto non vogliamo più perdere i nostri figli per una causa nella quale probabilmente non crediamo? Era già da molti anni che il governo degli Stati Uniti voleva ritirare, già nelle amministrazioni che hanno preceduto, quella di Trump, c'era l'idea di ritirare gli uomini, Trump non ha fatto che portare a compimento questa idea, ha fatto un patto con i talebani firmato a Doha nel febbraio 2020 per il ritiro in sicurezza delle truppe americane, quel patto però ha concesso molto ai talebani, poi il nuovo presidente Biden si è trovato nell'accordo già chiuso e non ha avuto margini per cambiare, da qui quel ritiro disastroso del 15 agosto scorso. E sempre ieri sera in Sala dei Palchi, nell'ambito dello spazio di Tori, la docente scrittrice Daniela Campione ha presentato insieme a Lilli Tortorici il suo libro dal titolo Sole, Pietre e Storie di Regine, pubblicato da Albatross. Valentina Farinarci ha presentato il suo libro dal titolo Non è il momento raggiungibile, pubblicato da Mondadori, intervistata da Agnese Sinagra, la scrittrice molisana ha messo in evidenza la dimensione digitale di una giovane donna, costretta a fare conti con follower e cambiamenti del proprio corpo in un mondo dove la tecnologia è ormai padrona del mondo.